A Teramo il progetto per il biodigestore anaerobico promosso dalla Team in contrada a Carapollo con un investimento di 28 milioni di euro punta a trasformare i rifiuti organici in energia pulita. Dopo aver superato la valutazione di impatto ambientale via si attende l'autorizzazione definitiva entro marzo per avviare la gara d'appalto in primavera. Abbiamo superato lo scoglio della valutazione di impatto ambientale che poi riassumeva alla fine per tutte le osservazioni che ci sono state poste una vera e propria valutazione. È stata una valutazione di assoggettabilità ma in pratica io parlo di valutazione di impatto ambientale perché abbiamo rassunto tutti i dati tecnici che sono all'interno di una valutazione di impatto ambientale. Ora siamo all'autorizzazione integrata sulla famosa AIA quindi cercheremo anche qui di essere precisi, puntuali, tutta la documentazione l'abbiamo già predisposta e sì con l'avvento della primavera speriamo di poter appaltare i lavori veri e propri. Siamo stretti coi tempi ma comunque ci siamo. L'impianto che dovrà essere operativo entro il 2026 secondo le scadenze del PNRR tratterà fino a 35.000 tonnellate annui di rifiuti producendo biogas, compost di qualità e biometano per la rete pubblica o come carburante. La cittadinanza terramana fa tantissimo perché raggiungere il 75%, 72 speriamo, 75% di raccolta differenziata non è cosa da poco, siamo stati premiati anche dall'Europa. A questo però si contrappone la mancanza di impianti e questo impianto per noi gestendo la frazione umida generando energia per noi è importantissimo. Ma prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del biodigestore dovrà essere completata la fase di demolizione e bonifica dell'area dove ad oggi è presente l'ex inceneritore di Carapollo in attivo dal 1987. Questa è un'attività che ha tenuto per sé il Comune di Teramo sempre con la nostra collaborazione perché noi siamo parte integrante del Comune di Teramo. Sì sono state fatte tutte le verifiche, sono stati già dati incarichi per questo tipo di attività, deve essere fatta entro la primavera per forza altrimenti non possiamo iniziare noi. Quindi sono due risultati che dobbiamo ottenere, ripeto, lavorando quotidianamente.